Volevo ricordare che è appena stato lanciato un tweet dall'ambasciata americana dove si dice ci uniamo al dolore della famiglia e dell'arma dei carabinieri ed esprimiamo profondo cordoglio per la morte del vice brigadiere Mario Cercello Rega e passiamo, come dici tu, a parlare di Eliana Frontini, di chi si tratta dell'insegnante novarese, 51enne, in questo liceo, Pascal Di Romentino, nei pressi di Novara oggi, ricordiamo, sospeso dall'insegnamento perché qualche ora fa ha pubblicato questo che adesso troviamo qui sul Corriere, riferito proprio al vice brigadiere scomparso ha pubblicato, in realtà non ha neanche il coraggio di leggerlo, comunque ha scritto uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente non ne sentiremo la mancanza si può ricostruire anche la storia di quello che è successo da questa pagina Facebook interessante che è dell'Ufficio Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che racconta proprio tutta la storia, dice anche che la professoressa ha provato a scusarsi subito dopo dicendo che ho commesso un errore gravissimo, me ne sono resa conto, ho scritto una gran cavolata Resta quello, se ce lo puoi ingrandire, resta quello che ha scritto quell'insegnante chiedo un commento, se si può commentare una roba del genere a Rita della Chiesa ma io quando l'ho letto sai non è facile in momenti come questi provare nello stesso tempo il dolore e la rabbia per quello che arriva sui social io credo che ci sia una serie di frustrazioni da parte di persone che hanno bisogno del loro momento di visibilità e che perché vedi che lei si sia scusata a me non me ne importa niente perché lei quella cosa l'ha scritta e se l'ha scritta l'ha pensata e allora è qualche cosa e poi prima poteva anche cancellarla subito prima che arrivassero tutte le ovviamente le rimostranze del web poi un insegnante un insegnante io mi chiedo allora io genitore se avessi mio figlio in una classe dove c'è un insegnante di questo genere che uno in meno non ne sentiremo la mancanza con lo sguardo poco intelligente scusami sai Eliana Frontini ma io come insegnante di mio figlio non ti voglio più io ti prendo mio figlio e te lo porto fuori dalla tua scuola perché non basta scusarsi è facile scusarsi per alcune persone come è facile anche scrivere una cosa di questo genere che evidentemente però lei aveva in testa perché se no non l'avrebbe scritto colonei grazie a tutti Grazie a tutti.